stasera non so se avete già sentito parlare di questo caso se conoscete già il caso di chiara bolognese e cristina colinucci sono due casi degli anni 90 quindi realtà siamo belli indietro nel tempo come ogni col case che si rispetti perché poi in realtà deve essere passato anche sufficiente tempo per poter parlare di pista fredda perché col case sono casi freddi cioè casi in qualche modo non riescono ad essere risolti e quindi le piste collegate diventano fredde per questo motivo quindi non ci sono più piste da perseguire e ovviamente per poter dare questa connotazione a un caso di solito bisogna che sia passato sufficiente tempo non c'è un limite per per definire un col case in realtà tutti i casi risolti che siano vecchi o siano nuovi e non essendo risolti possono tranquillamente beneficiare di questa etichetta vi spiego anche perché io sia così tanto legata ai col case perché in realtà tra le attività che ho messo in campo nel tempo c'è anche quella di specializzarmi e comunque di aver affrontato nel corso del tempo alcuni cold case e quindi di aver lavorato attivamente ai fascicoli per poter comprendere se ci sia o meno modo ci sia stato meno modo di rimettere mano a quei casi uno tra tutti è proprio quello che ogni tanto passa qui come vi mettono il link del libro a cui ho collaborato insieme alla mia collega Sara Olivieri quindi scritto a quattro mani su un caso che è tuttora un cold case è quello di Maura Fondacci lì abbiamo ricostruito proprio attraverso un'analisi dettagliata del fascicolo tutti quelli che sono stati all'epoca tutte quelle che sono state le indagini mi interessa molto di affrontare i cold case perché effettivamente nella vita faccio anche questo cioè mi occupo anche di rileggere i fascicoli per comprendere se ci siano o meno gli estremi o gli agganci per poter riaprire un caso partiamo dalla siamo partiti dalla fine cioè siamo partiti dal fatto che il caso di Chiara Bolognese e Cristina Gorinucci si riapre dobbiamo capire però che cosa è accaduto e perché queste due ragazze la tragica storia di queste due ragazze sembra collegata allora che cosa succede siamo abbiamo detto a più di 30 anni fa siamo sostanzialmente nel 92 quindi vedete bene che nonostante sembri l'altro ieri perché io tutte le volte che penso agli anni 90 come che stanno passati 10 anni 20 anni col cavolo passati più di 30 anni che poi la mia età sostanzialmente quindi siamo molto molto indietro nel tempo e che cosa accade allora a distanza di pochissimo tempo succede qualcosa di molto simile a due ragazze cioè la Cristina Gorinucci ha 21 anni quando scompare e questa scomparsa accade il primo settembre del 92 invece il 31 ottobre del 92 quindi esatti due mesi dopo il corpo di Chiara Bolognesi che era scomparsa da alcune settimane quindi anche lei vittima di una scomparsa viene ritrovata morta chiaramente un corpo senza anima un corpo esanime scusate non so perché stasera ogni tanto dico cose che non devo dire buonasera ciao Rodi un corpo esanime viene ritrovato nel fiume Savio sempre nella stessa zona che è quella di Cesena quindi queste due ragazze scompaiono a distanza di pochissimo tempo tra loro a distanza di sostanzialmente un mese e mezzo di Chiara Colinucci non si apranno più notizie a tuttora non si è mai ritrovato il corpo di Chiara Colinucci di Cristina Colinucci mentre di Chiara Bolognesi si ritrova il corpo senza vita due settimane circa dopo la scomparsa in un fiume nel fiume Savio detto così dice vabbè ma sono due cose scollegate una è scomparsa non si sa più niente l'altra è stata ritrovata cadavere quindi sostanzialmente sono due cose scollegate diciamo che la procura di Forlì su proprio anche una sorta di spinta che era quella del fatto che tanto Cristina tanto Chiara frequentassero ambienti molto molto vicini e da un lato pare non si conoscessero dall'altro sembrava quasi impossibile non conoscersi perché comunque parliamo di della zona di Cesena non chiaramente di una grande metropoli ma comunque di un centro sicuramente molto abitato ma che aveva pochi punti di riferimento così tanto in comune come quello appunto del volontariato e di tutta diciamo l'apparato cristiano cattolico che girava attorno a questa associazione di volontariato che diciamo gli inquirenti da subito hanno messo un punto interrogativo alla questione dicendo sono scomparse a distanza molto ravvicinata di Chiara Bolognesi abbiamo ritrovato il corpo di Cristina non sappiamo ancora niente cosa possiamo fare per capire cosa è accaduto e cominciano chiaramente ad innagare sulla vita delle due ragazze in un primo momento quindi proprio in prossimità degli eventi la prima cosa che viene fatta è quella di credere erroneamente a questo punto potremmo dire dopo 30 anni che la tragica morte di Chiara Bolognesi ritrovata nel fiume Savio fosse dovuta a un suicidio ora ultimamente sento spesso dire ah ormai quando non sanno più che fare quando non sanno più che dire dicono che la gente si è suicidata a quanto pare è stato sempre un elemento abbastanza comune ma questo perché quando non si può spiegare in qualche modo una morte in modo diciamo spiegandocela come se qualcun altro avesse agito sull'evento la scelta anche abbastanza obbligata è quella di poter pensare che si possa essere vittima di un gesto autolesivo e quindi di un suicidio. Di certo abbiamo parlato della Resinovic qualche la settimana scorsa se non sbaglio la settimana precedente e abbiamo visto come in quel caso parlare di suicidio ci resta un po' complicato nel senso che la modalità con cui l'indiana si dovrebbe essere tolta la vita è alquanto bislacca questa di adagiarsi in questo campo incolto con questo sacco in testa un altro sacco ai piedi aspettando la morte sostanzialmente perché poi sarebbe morta non per il soffocamento ma per un arresto cardiaco o comunque sarebbe morta in una condizione già di insufficienza in qualche modo cardiaca di una situazione già compromessa e ci risulta un po' bislacco credere che quella possa essere veramente una modalità suicidaria. Qui troviamo una chiara bolognesi annegata in un fiume e vi devo dire la modalità di annegamento è abbastanza comune così come la defenestrazione volontaria piuttosto che l'impiccagione sono modalità anche abbastanza comuni anche nell'immaginario di un ipotetico suicidio quindi brancolando totalmente nel buio gli inquirenti quasi subito dopo essersi fatti un po' di domande sul fatto che potesse esserci dietro una sola mano non avendo i necessari strumenti anche per poter comprendere di più di quello che era diciamo così lampante decidono che chiara bolognesi è morta perché si è tolta la vita quindi da un lato c'è chi in quegli anni già da subito sospettò che dietro appunto a queste due situazioni ci fosse una mano comune quindi che qualcuno avesse agito su chiara bolognese su cristina colinucci per togliere la vita a queste due ragazze il motivo non è ben chiaro nel senso che in un primo momento non si comprende bene se si tratta di un soggetto che in qualche modo ha usato violenza sulle sulle ragazze oppure se in generale ne abbiamo parlato tanto di serial killer abbiamo visto anche tanto come non per forza dietro poi le morti numerose anche spesso legate a questi soggetti ci fosse per forza un'attività sessuale alle volte abbiamo visto che l'attività sessuale non era neanche legata strettamente al corpo l'ho visto il big killer che delle volte no anzi spesso nel suo caso l'eccitamento sessuale arrivava attraverso la tortura quindi neanche con l'azione diretta sul corpo quindi una violenza sessuale agita direttamente sul corpo ma con no la sofferenza agita e quindi dolore inflitto provoca eccitazione in questo caso no quindi non si comprende bene no perché poi tra l'altro una è stata ritrovata nel fiume sabio la dell'altra non si non si sa niente quindi la modalità è anche problematica no c'è l'altra dov'è perché una ce la fa ce la fa ritrovare se parliamo della stessa persona ce la fa ritrovare in un fiume e l'altra non ce la fa ritrovare se ne è sbarazzato troppo presto è successo qualcosa per cui a un certo punto non si è non si è potuto occupare per bene di un corpo e quindi no la la semplicemente tenere liberato in una modalità così poco poco studiata no poco organizzata le domande sono tante sta di fatto che purtroppo in quel primo momento ha sicuramente pesato anche il fatto che siamo 30 anni indietro rispetto anche a tutte le possibili tecnologie che ad oggi sono a nostra disposizione per poter avere degli elementi in più che cosa però questi due casi cos'hanno anche in comune ma soprattutto che cos'è che ha in tessuto nel tempo una una sorta di di linea comune che ha reso complicato ma allo stesso tempo non ha mai spento i riflettori su la situazione ed è quella che periodicamente testimoni o anonimi o soggetti che a vario titolo entrano in scena aggiungono un pezzettino alla storia da un lato questo appunto ci permette ci ha permesso di non spegnere mai riflettori su tutte e due casi poi nonostante di chiara sembrasse no non si dovesse più parlare perché archiviato per suicidio e va bene così ma e quindi da un lato bene che se ne parli se ne sia sempre parlato perché in qualche modo l'attenzione non è mai calata dall'altro però c'è tanta rabbia per il fatto che tutte queste notizie che sono state messe una sopra l'altra con il tempo e che ad oggi hanno permesso anche di riaccendere i fari in maniera importante e quindi di riaprire tutto di riaprire le indagini e di capire se anche altre ragazze scomparse in quel periodo possono essere state vittime dello stesso della stessa mano la rabbia è quella appunto che ci fa dire ma non potevano parlare prima cioè non potevano esporsi prima o non potevano far arrivare gli stessi messaggi prima vi devo dire che è molto frequente questo atteggiamento un po' per paura un po' per una coscienza che sopraggiunge col tempo un po' perché spesso questa roba avviene quando muoiono in prima battuta persone legate al caso noi vedremo che in realtà legato a questo caso c'è un soggetto molto particolare soprattutto per cristina colinucci e anche perché appunto i soggetti legati a questa storia sono sostanzialmente legati al mondo del clero quindi c'è sempre in qualche modo una certa reticenza a parlare davvero quando c'è di mezzo appunto il comparto clero non un po' per un po' per ansia rispetto alle conseguenze un po' perché si pensa che non sia possibile che gente che in qualche modo no veste degli abiti così tanto santi possa essere fautrice di comportamenti simili chiara bolognesi a un certo punto si dicevo scusatemi che da un lato fa rabbia che la gente parli solo in un secondo momento dall'altro parla anche spesso quando i personaggi poi principali delle vicende muoiono perché così in qualche modo si sentono liberati da un peso dall'altro canto è anche vero che questo continuo anderivieni di notizie di testimonianza ha permesso ad oggi di poter riaprire il caso in qualche modo tra l'altro dietro soprattutto per quanto riguarda cristina colinucci c'è una mamma che non si è mai mai arresa ed è marisa degli angeli che è una donna che vedete spesso a chi l'ha visto nonostante non sia più una donna giovanissima ma si batte costantemente il papà di cristina è venuto addirittura a mancare prima ancora di scoprire veramente cosa si è accaduto alla figlia pensate quindi che quanto debba essere terrificante questo questa attesa incessante dietro gli scomparsi che non sai che cosa si è accaduto probabilmente sai che tua figlia non c'è più perché la mamma di cristina colinucci è chiaramente ormai abbastanza convinta del fatto che cristina non si sa più in vita da tempo e che quindi dietro la scomparsa non ci sia niente di volontario però ecco dietro queste dietro queste famiglie c'è sempre qualcuno un parente no poi denominato mamma coraggio papà coraggio che in qualche modo porta avanti estremamente una battaglia che è quella di far luce di avere la verità quindi sicuramente tanto merito va anche a merito in positivo cioè del fatto che poi non si spengono mai veramente riflettori va alle famiglie che combattono veramente delle battaglie importanti non auguro a nessuno di provare veramente non l'ho mai provato e spero di non provarlo mai ma non auguro a nessuno l'angoscia che si prova ad avere un carro sparito nel nulla e non sapere più niente dal giorno alla notte penso che sia una delle cose più terribili che possa accadere perché lascia veramente appesi cioè sembra una vita a metà questo lo dice spesso anche il fratello di Emanuele Orlandi Pietro Orlandi che anche lui è un altro di quelli che sono veramente tanti tanti anni che si batte per la verità ci sono casi come quello di Cristina Culinuccio di Chiara Bolognesi dove forse si poteva fare di più e mi sento di dirlo con assoluta certezza dal momento che ad oggi si stanno riaprendo le indagini quindi è possibile che si sia tralasciato qualcosa che non si sia abbattuto per bene dove il ferro non è ancora caldo che cosa emerge diciamo dalla situazione di scomparsa di Cristina Culinucci perché abbiamo detto che Cristina Culinucci scompare prima quindi Cristina Culinucci scompare il primo di settembre del 92 Chiara Bolognesi viene ritrovata a cadavere nel fiume Savio il 31 ottobre ma era scomparsa da alcune settimane quindi diciamo che il tempo di scomparsa tra una e l'altra è molto breve ma intanto scompare Cristina Culinucci quindi iniziamo dai fatti che riguardano Cristina Culinucci quindi cerchiamo di andare in ordine temporale il primo settembre avevo detto si perdono le tracce di Cristina che cosa doveva fare Cristina quel giorno e in che momento se ne perdono le tracce Cristina quel giorno aveva appuntamento nel convento che frequentava abitualmente era molto legata alla fede era una ragazza che era anche molto debita al volontariato alla diciamo all'assistenzialismo quindi che cosa accade accade che deve andare in questo convento che frequenta abitualmente per vedersi con il parroco di questo convento perché devono preparare il campo scuola per i ragazzi di questa associazione quindi a questo appuntamento verso le 2 e 30 verso le 14 e 30 perché appunto si deve mettere d'accordo con il con il prete per organizzare questo viaggetto che cosa succede però il parroco ci dice che Cristina in realtà non è mai entrata nel convento nonostante la sua auto sia stata ritrovata all'interno del parcheggio del convento quindi che cosa è accaduto Cristina si è recata effettivamente nel convento è scesa dalla macchina soltanto che sembra essere stata risucchiata un buco nero perché Cristina non è mai entrata nel convento ma è arrivata al convento quindi deve essere successo qualcosa nell'esatto momento in cui Cristina scende dalla macchina e questo è il momento in cui scompare Cristina Colinucci che cosa accade da quel momento in poi la mamma dice appunto che si comincia ad allarmare nel momento in cui appunto Cristina no non fa ritorno a casa perché perché il prete non si allarma minimamente cioè lui dice io l'aspettavo alle 14 e 30 se sono fatte le 15 ho visto che non arrivava e quindi sostanzialmente ho pensato che avesse bucato l'appuntamento cioè che non si presentasse più ragioni per cui basta si era pacificamente convinto che avesse avuto un imprevisto siamo nel 92 ragazzi non ci sta whatsappi cellulari già ci sono ma rudimentali e quindi non ci sono gli sms non c'è assolutamente nulla quindi non è che come oggi direi vabbè gli mandi un messaggio fai la telefonata capisci no assolutamente no il prete non vede arrivare Cristina e quindi pensa pacificamente che Cristina abbia semplicemente avuto altro da fare non si sia presentato all'appuntamento soltanto che la mamma non la vede arrivare a casa quindi si allarma si allarma e cominciano a cercarla cominciano a cercarla finché non vanno direttamente da questo parroco chiedendo spiegazioni volendo chiedere spiegazioni sapevano che aveva avuto quell'appuntamento doveva avere quell'appuntamento col parroco quindi dico andiamo a chiedere a lui quando arrivano esattamente all'interno del convento si rendono conto che la macchina di Cristina è lì quindi in un primo momento pensano che Cristina si allene i paraggi di fatto Cristina non c'è non c'è nessuna traccia di Cristina il parroco non si è neanche reso conto dice che la macchina appunto fosse lì non si è reso conto che Cristina fosse arrivata e non ha spiegazioni per il fatto che sia sparita nel nulla nel tragitto che la separava dalla macchina all'entrata del convento che cosa e quindi lasciamo un secondo da parte la sparizione di Cristina Colinucci perché tutto quello che sappiamo in quel momento storico e anche per molti anni a venire che cosa accade invece sostanzialmente a Chiara Bolognesi abbiamo detto che Chiara Bolognesi scompare in qualche manciata di settimane qualche manciata di settimane dopo la scomparsa di Cristina Golinucci Chiara Bolognesi scompare abbiamo detto il 7 ottobre del 92 il 7 ottobre dello stesso anno quindi sostanzialmente un mese sei giorni dopo la scomparsa di Cristina Colinucci e viene ritrovata cadavere e con indosso solo il reggiseno nel fiume Savio a Cesena e viene ritrovata il 31 ottobre 1992 come vi ho detto per il caso di Chiara Bolognesi il fatto era stato archiviato quasi subito come suicidio c'è da dire che se io trovo una ragazza che ha soltanto il reggiseno cadavere in un fiume vi devo dire che il primo pensiero che mi viene forse non è suicidio ad oggi perché mi dovrei anche spiegare dove sono i suoi abiti perché ha solo il reggiseno è una condizione un po' particolare richiama probabilmente anche un'ipotetica violenza quindi diciamo che già da subito le condizioni non favorivano tantissimo l'archiviazione del suicidio però dall'altro canto siamo comunque nel 90 molte tecnologie che abbiamo oggi non c'erano molte tecniche che oggi forse possono esserci utili non c'erano e quindi diciamo che diamo in qualche modo un colpo al cerchio un colpo alla botte perché se da un lato era doveroso forse fare un passetto in più e indagare leggermente di più dall'altro c'è da dire che possiamo comprendere il perché questa cosa non sia stata fatta cioè il perché effettivamente si sia tardato così tanto a collegare i due casi nonostante l'aria fosse proprio quella l'aria anche in cui erano avvenuti i fatti l'aria anche rispetto al background che c'era tra queste due ragazze e quindi passiamo proprio a questo cioè qual era il background che c'era dietro le due ragazze per cui a un certo punto si è supposto che potessero essere protagoniste di una stessa storia di una stessa brutta storia mi sentirei di dire e perché? perché è questo diciamo che allora la questione principale verte su due punti diversi uno è se si conoscessero l'altro è se frequentassero la stessa ipotetica persona cioè avessero avuto modo di incontrare lo stesso soggetto che poi ha agito su di loro nello stesso modo cerchiamo di rispondere a tutte e due le domande allora intanto tanto Cristina quanto Chiara frequentavano gli stessi ambienti gli stessi ambienti quali sono sostanzialmente? sostanzialmente sono appunto gli ambienti ecclesiastici non soltanto gli ambienti ecclesiastici ma anche questa associazione di volontariato nello specifico che opera proprio in quelle zone tanto che il fondatore proprio di questa associazione oggi 81enne racconta che le due ragazze facevano entrambe parte di questa associazione da volontarie che secondo lui secondo la sua opinione era impossibile che non si conoscessero perché di base sembra che non si conoscessero nel senso che non ci sono modi di comprendere o di capire se effettivamente avessero mai avuto contatti nel senso che nessuno riporta conoscenza di questo elemento ma voglio dire è anche possibile che due persone si fossero magari viste in associazione ma non fossero amiche fuori quindi tra l'altro Cristina Corinuccia aveva 21 anni che era bolognesi ne aveva poco meno che 18 quindi magari anche soltanto per differenza di età potevano essersi viste ma non frequentate e Umberto Ganci appunto il fondatore di questa associazione dice proprio questo dice chiedevamo la presenza a tutte le lezioni e ricordo benissimo che loro due erano presenti fin dalla prima lezione facevano un corso appunto in questa associazione e poi aggiunge finite le lezioni c'era subito un colloquio ricordo Cristina una ragazza molto semplice con questi occhiali molto grandi e che alle domande che facevamo avevamo l'impressione che volesse mettersi in gioco Cristina è quella che vedete nell'immagine a destra per lei era normale fare qualcosa per le persone che si trovavano in necessità confermando appunto quest'animo assistenzialistico di Cristina Collinucci mentre Chiara Bolognesi la ricordo come esile magra con i capelli lunghi e lisci è esattamente la ragazza che vede nella foto a sinistra non ho avuto un colloquio con lei all'inizio andavano in servizio assieme loro si sono conosciute non so se si conoscessero se si conoscessero già si è sempre detto che le due non si conoscessero sicuramente invece il Navo l'associazione di volontariato si sono conosciute quando è arrivata la notizia per noi è stata come una mazzata in testa e ci siamo guardati in faccia pensando ai volontari siamo giunti alla conclusione che fosse impossibile che qualcuno dei volontari avesse fatto del male a Cristina e a Chiara sullo spettro ovviamente di un solo assassino però non ci sono ancora accuse concrete dice no quindi nonostante ad oggi si richiami con forza il fatto che è possibile che ci sia lo stesso la stessa mano dietro ovviamente il fondatore di questa associazione fa fatica a credere che all'interno dell'associazione di volontariato potesse esserci qualcuno di così violento e di così cattivo da far del male a due ragazze però tralasciando l'opinione personale di Umberto Ganci quello che è importante è che secondo lui anzi lui se avete letto se avete ascoltato sembra quasi darlo per assoluto il fatto che loro si conoscessero quindi una certezza il fatto che Chiara e Cristina si fossero conosciute assolutamente all'interno anzi avessero prestato servizio assieme addirittura quindi non c'è dubbio che si conoscessero mentre questa informazione per lungo tempo è stata totalmente ignorata quindi si è sempre detto che Cristina e Chiara sostanzialmente non si conoscessero quindi un primo elemento è il fatto che avessero lo stesso identico background cioè sostanzialmente operassero per la stessa associazione di volontariato nello stesso nella stessa area quindi anche con lo stesso legame al mondo ecclesiastico perché dico questa cosa perché perché come vi ho detto in maniera abbastanza ripetuta nel corso del tempo sono emersi dei fatti provenienti da testimonianze che a vario titolo sono emersi un po' perché chi l'ha visto non si è mai tirato indietro da andare a rompere le scatole le persone giuste o un po' perché come vi dicevo le persone spesso parlano quando poi non c'è più il presunto pericolo o non hanno o in qualche modo la coscienza gli dice di liberarsi di un peso quindi a vario titolo durante gli anni quindi dal 92 poi nel 2010 poi successivamente nel 2013 poi successivamente nel 2023 c'è stato un ricircolo di informazioni e di testimonianze che hanno allargato il focus su questa questione c'è ovviamente questo legame perché appunto oltre ad aver frequentato gli stessi ambienti religiosi tra l'altro si viene a conoscenza del fatto che hanno frequentato lo stesso istituto scolastico anche se in anni diversi perché abbiamo detto che Cristina Colino ha 21 anni mentre Chiara Bolognesi ha 18 anni al limite di 18 anni sono state 18 anni quindi hanno frequentato lo stesso istituto ma non nella stessa classe né negli stessi anni quindi se fosse possibile non conoscersi a scuola è un po' meno probabile che non si conoscessero appunto per la stessa lo stesso ambiente religioso frequentato Cristina Colinucci quindi abbiamo detto scompare nella periferia di Cesena perché sta andando da Padre Lino che è appunto questo parroco questo tra l'altro confessore di Cristina perché la mamma racconta che Padre Lino per lei era un faro quindi quando lei era in una situazione così poco chiara si rivolgeva sempre a lui e questo frate c'è da dire che subito dopo la scomparsa di Cristina fu molto reticente ad oggi questo parroco è morto la mamma di Cristina Colinucci a più ripresa ha cercato di andare al convento ci sono anche un sacco di servizi del programma chi l'ha visto ha cercato a più ripresa di andare a bussare al convento per avere informazioni per capire cosa fosse successo a Cristina perché sostanzialmente per lungo tempo anche gli inquietenti stessi hanno scandaliato per bene la situazione convento la situazione padrelino perché chiaramente la macchina è stata trovata comunque lì all'interno del convento e soprattutto perché padrelino col tempo si è rivelato molto reticente quindi non si è mai espresso o aperto molto cercando di dare un supporto per e proprio sempre detto io Cristina non l'ho vista non mi sono neanche preoccupato quando mi è arrivato perché ho pensato che potesse aver semplicemente fatto tardi e il fatto che voglio dire la macchina fosse nel nel parcheggio del convento a quanto pare è un elemento che non ha minimamente considerato cioè secondo la sua versione non si è praticamente accorto perché altrimenti il pensiero è ma se la macchina sta qua vuol dire che Cristina è arrivata dove sta mentre invece sia quando lo chiamano quando non torna a casa Cristina e quindi sanno che deve andare dal parroco lo chiamano gli dicono dollino scusi ma Cristina sta là e gli dice no non si è proprio vista se al giorno dopo quando trovano la macchina dentro al parcheggio il dubbio è lecito sta di fatto che Dollino non è mai stato effettivamente indagato perché non c'era nessun legame che lo appesantisse la sua posizione sta di fatto che di Cristina non si sa assolutamente nulla mentre abbiamo detto appunto di Chiara sappiamo qualcosa dopo soltanto un mese cosa sappiamo sappiamo che viene appunto ritrovata nel fiume Savio soltanto con il reggiseno che cosa succede cominciamo a capire a vario titolo quali sono le informazioni che sono venute fuori da varie testimonianze tanto anonime quanto svelate nei giorni immediatamente successivi la scomparsa tanto di Cristina Culinucci che di Chiara Bolognese cioè dopo un mese dalla scomparsa di una e dell'altra tra le centinaia di telefonate anonime che a più riprese venivano indirizzate proprio a Don Lino quindi in questo convento di ronta arriva una telefonata molto particolare perché secondo proprio questo parroco chiama un tizio sconosciuto quindi di cui non si ha effettivamente contezza che gli dice che di lì a poco avrebbero trovato il corpo di Chiara Bolognesi nel Savio e che quello di Cristina Culinucci era nel Tevere nelle vicinanze del convento dei Cappuccini dove si trovavano due frati che in precedenza erano stati a Cesena quindi che cosa succede? succede che questo parroco diceva tra le tante telefonate diceva questa telefonata che dice espressamente che troveranno di lì a poco Chiara Bolognesi nel Savio ancora non è stata ritrovata e la Culinucci sarà ritrovata nel Tevere ora questo parroco di questa telefonata ne parlerà solo dieci anni dopo ok? quindi non nel 92 ma ne parlerà nel 2012 e voi mi direte ma è scemo soprattutto per il fatto che qualche giorno dopo trovano veramente Chiara Bolognesi nel Savio quindi è evidente che questa telefonata a dispetto del fatto che comunque viene da uno sconosciuto anonima è emersa in centinaia di telefonate che tartassano il convento di Ronta perché la gente non si fa mai fatti sua vuole aggiungere cose inutili in qualche modo è anche cerca di rilanare nel torbido però questa più di altre mi sembrava una notizia non irrilevante se non sul momento perché uno potrebbe dire vabbè si è arrivato l'indovino che trovano adesso trovano quella nel Savio e l'altra nel Tevere sta di fatto che qualche tempo dopo Chiara Bolognesi viene ritrovata esattamente nel Savio però questo parroco pensa bene di mantenere la notizia per dieci anni e quindi tutto sommato se effettivamente avrebbe potuto essere un elemento fondamentale perché voglio dire non ve lo devo dire io che se io butto delle persone in un fiume non rimangono ferme lì per tutta la vita quindi è molto possibile che camminino insieme alla corrente dell'acqua e che quindi se io la adagio nel fiume in un punto voglio dire dieci anni dopo probabilmente non esiste neanche più il corpo di questa persona perché sapete bene che poi non soltanto l'acqua ma anche la fauna marina fa purtroppo il suo corso quindi i colpi è possibile che non vengano mai ritrovati ma è vero anche che se è passato un congruo tempo è possibile che io possa ritrovare incagliato in qualche punto del fiume il corpo di una persona che è deceduta quindi probabilmente questa informazione avuta a giusto momento dieci anni prima e quindi in un momento in cui la scomparsa era ancora molto calda e le ragazze nessuna delle due era stata ancora ritrovata quindi neanche Chiara era venuta alla luce sarebbe stato molto molto importante ma purtroppo come vi ho detto il padro per dieci anni si tiene questa bella notizia per sé che cosa altro succede succede che nel 95 quindi tre anni dopo quindi ve le sto dicendo in ordine quindi nel 92 prima ancora che venga ritrovata Chiara telefonata anonima in cui si dice ritroveranno la Bolognesi nel Savio e la Gorinucci nel Tevere Bolognesi la trovano veramente nel Savio non si è mai effettivamente cercato nel Tevere per sapere se Cristina fosse lì nel 95 quindi tre anni dopo le scomparse chi l'ha visto manda in onda una testimonianza di chi? di una ragazza che afferma racconta di essere stata abusata sessualmente quando nel 94 quindi un anno prima rispetto a quando chi l'ha visto manda in onda il servizio ma due anni dopo i fatti della Bolognesi e della Gorinucci e la zona dove dice di essere stata sessualmente abusata coincide esattamente con la zona in cui scompare Cristina quindi altro elemento altro elemento che ci fa dedurre o supporre che forse c'è qualcuno che abusa di queste ragazze e poi o ne abusa a tal punto da ucciderle o le uccide perché verrebbe riconosciuto sta di fatto che per questo specifico abuso viene arrestato tale Emanuele Bocche che nel 92 era ospite proprio di quel convento la testimonianza di questa ragazza chiaramente dà un nuovo input alle indagini perché a quel punto si risveglia l'idea che forse non siano così tanto slegati i casti tra loro ma questa testimonianza del 95 sarà solo nel 99 che avrà in qualche modo una sorta di svolta cioè un'utilità perché pare che così emerge ma ad oggi non possiamo più saperlo perché Padre Lino non è più in vita pare che trapeleò queste informazioni perché Padre Lino sapesse esattamente che fine aveva fatto Cristina ma non lo avesse mai rivelato agli inquirenti ora diciamo che questa notizia viene confermata da un evento cioè pare che Don Lino si fosse recato a trovare Boche in carcere perché questo Cristiano ce l'erano comunque arrestato e portato per l'abuso sessuale su questa su questa ragazza che era uscita nel 95 dicendo io ho subito un abuso sessuale e è avvenuto nel 94 proprio nei pressi dove è scomparsa Cristina perché poi questo Boche effettivamente abitava all'interno per un periodo abitato nel convento e che cosa era successo dice che Padre Lino era andato a trovare Boche in carcere e a quanto pare aveva ricevuto una confessione da questo Boche nello specifico gli aveva confessato di aver ucciso Cristina e di averne occultato il corpo ma il frate la testimonianza appunto era arrivata soltanto in un momento successivo tra l'altro quando emerge questa notizia quando a un certo punto diciamo questa roba acquista Valenza anche mediatica vanno da Boche e dicono ma è vera sta cosa qui cioè si dice che tu abbia confessato a Don Lino l'uccisione della Colinucci e che tu abbia occultato il cadavere e lui nega nega esternamente dicendo non è vero non ho mai detto questa roba qui quindi Don Lino sta mentendo perché a un certo punto Don Lino dice si si me l'ha detto lui Don Lino sta mentendo io non ho mai ucciso Cristina Colinucci ovviamente gli inquirenti non si fidano né di Don Lino né di Boche e quindi fanno le indagini svolgono delle indagini ma non c'è nessun risultato e quindi si torna al punto di partenza non si può stabilire con certezza che Boche abbia ucciso Cristina Colinucci anche perché se dobbiamo immaginare che Cristina Colinucci sia stata uccisa e fatta sparire dalla stessa mano che ha ucciso Chiara Bolognesi allora Boche avrebbe dovuto confessare anche l'omicidio di Chiara Bolognesi mentre di Chiara Bolognesi non si sa assolutamente nulla col seno del poi vedremmo che potrebbe essere un ipotetico di pistaggio nel senso che Don Lino sapeva benissimo che faceva del male a queste ragazze e per coprirlo abbia dato in pasto alla procura un uomo già in qualche modo accusato di un reato simile quindi voglio dire Boche era notoriamente stato arrestato per aver superato una persona e quindi automaticamente poteva essere il papabile assassino anche di della Colinucci altra testimonianza che cade sostanzialmente nel vuoto è questa di questa ragazza perché emerge che effettivamente c'è qualcosa che non torna in quell'area durante quegli anni c'è qualcuno che forse si approfitta di queste ragazze e quindi da un lato le indagini sembrano non prendere mai sembrano fermarsi mai sembra in qualche modo a ricircolo tornare sullo stesso punto dall'altro sembra che non ci sia non ci sia mai un punto d'arrivo vero e proprio per cui dire abbiamo un elemento certo che cosa che cosa si comincia a appaventare abbiamo detto l'idea che ci sarebbe stato un soggetto che in qualche modo molestasse queste ragazze e che poi appunto se ne sbarazzasse perché altrimenti sarebbe stato riconosciuto un uomo proprio inserito nel mondo cattolico di Cesena quindi non una persona a caso e che appunto sono andati avanti per tanti anni non soltanto nei confronti di Chiara Bolognese e Cristina Colinucci ma anche di tante altre donne che sarebbero state a loro volta appunto vittime di violenza sessuale mai denunciata direttamente quindi che cosa succede la procura della Repubblica a un certo punto decide di vederci chiaro questo molto recentemente ma questo perché questa questione dell'uomo molto legato al clero di Cesena e vissuto in qualche modo negli ambienti che legavano Chiara Colinucci non è notizia fresca nel senso che il sentore che ci fosse un uomo che si aggirasse in quella in quella in quell'area ma proprio inserito tra le maglie di quel mondo e che fosse anche difficile da denunciare proprio perché rivestiva un ruolo di grande di grande rilievo quindi anche difficile da gestire rispetto alla denuncia perché chiaramente immaginiamo come a quell'epoca vi ho detto se scomparivi eri maggiorenne e dovevi aspettare addirittura per Cristina Colinucci ci sono voluti tre giorni prima che le autorità prendessero la denuncia del papà quindi voglio dire non due minuti cioè se io devo aspettare tre giorni perché mi diano retta figuriamoci se una ragazza fosse andata a dire Tizio Caio che è una persona influente all'interno dell'assistenzialismo del volontariato del clero cesanese se fosse stata creduta o comunque se non fosse stata quantomeno non gli fosse stata riconosciuta ecco anche un'esagerazione no da qualche parte succede che a un certo punto c'è proprio un salto temporale di tantissimi anni circa più di dieci in realtà più di una decina d'anni in cui sembra tutto sospeso quindi c'è questo continuo rimando alla possibilità che ci sia un uomo che abbia commesso questi omicidi che effettivamente sia qualcuno addentrato nel mondo cattolico di cesena che ci ci debba essere necessariamente un legame tra Chiara e Cristina perché frequentavano gli stessi ambienti perché ci dicono che si conoscevano il fondatore dell'associazione di volontariato che le accoglieva ci dice non potevano non conoscersi facevano servizio assieme io lo so che si conoscevano quindi ci sono tutte le carte regola per avere i due casi collegati però c'è questo limbo in cui finiscono perché uno continua ad essere chiaramente un caso archiviato per suicidio e l'altro rimane una scomparsa così ferma nel tempo fino a quando vi ho detto che a più riprese chi l'ha visto è andata a rompere le scatole alle persone giuste quindi così come mandò in onda questa testimonianza nel 95 di questa ragazza che diceva che è stata stata stuprata proprio nei pressi di dove era sparita Cristina e per lo stupro era stato arrestato da Emanuele Bocche che poi aveva appunto detto a Dollino ucciso io Cristina per poi ritrattare tutto dopo la morte di Dollino quindi c'era questo primo elemento che le collegava questo sentore del mostro che violentava le donne e poi le faceva sparire non si sa più niente per tanti anni perché nonostante appunto a più riprese una volta Dollino ci diceva sì ma io avevo ricevuto la chiamata che diceva che una stava nel sapio e una nel tevere ma lo dice dieci anni dopo spuntano donne che avverrido dicono di essere state molestate ma senza mai dare connotati precisi alla questione questo limbo finisce quando finisce quando a un certo punto dicevamo appunto chi l'ha visto trova un'altra ragazza anzi in realtà altre due altri due casi uno di questa ragazza che in realtà dice che sarebbe stata molestata in passato c'è proprio un servizio dove c'è la giornalista Chiara Gazzanica che l'ha intervista e sembra da come racconta che effettivamente i casi il caso potrebbe essere ricollegato a quello della stessa mano di Chiara e Cristina perché che cosa dice ve lo dico trascritto dice le prove del coro erano alla parrocchia dell'osservanza e lui lui questo soggetto che la molestava era conosciuto dai frati proprio perché frequentava assiduamente quella parrocchia appena l'ho conosciuto mi è sembrata una persona normale come gli altri lo vedevo anche agli incontri di preghiera era particolarmente assillante nei miei confronti cercava sempre di starmi vicino e mi importunava durante quei mesi mi ha molestato in tutti i modi si nascondeva dietro cespugli di casa seguendomi ovunque anche quando mi trovavo con il mio fidanzato tanto che più delle volte lui voleva intervenire ma sono stata io a impedirlelo perché allora ero veramente terrorizzata e temevo che poi potesse succedergli qualcosa oltre a seguirmi mi spiava in modo ossessivo fino a quando una sera penso nel 95 continua la donna dopo un concerto della corale ci trovammo tutti in pizzeria eravamo una cinquantina appartenenti al coro con amici e familiari ad un certo punto mi alzai per andare in bagno e dopo essere già entrata nell'anti bagno lui entrò e mi aggredì bloccandomi al muro con il chiaro intento di usare violenza nei miei confronti non so come sono riuscita a divincolarmi e ad afferrare la porta per uscire e lui allora è stato costretto a ricomporsi anche perché visto il suo ruolo nella chiesa ci teneva molto ad apparire come una persona che non avrebbe mai fatto queste cose l'essere stessa poi quando siamo usciti e ci siamo avvicinate al parcheggio mi sono accorta che lui si nascondeva dietro le macchine probabilmente per verificare se mi allontanavo da sola mi confidai con un prevede di rimini che gli parlò lui allora si sentì scoperto proprio in quell'ambiente dove invece lui voleva mostrarsi come un esempio quindi che cosa accade che sta ragazza così come e tante altre non denuncia parla col parroco di turno e gli dice mi è successa questa cosa mi è successa questa cosa e quando viene detto questo sembra che i parroci a cui viene confessata questa roba che conoscono il soggetto invece di consigliare la denuncia minimizzano la questione stessa cosa viene fatta con un'altra ragazza che a un certo punto viene stuprata effettivamente cioè in questo caso lo stupro avviene lo sappiamo perché questa ragazza non parlerà mai con nessuno di questo stupro finché la mamma non si rende conto che c'è qualcosa che non va scopre di questo stupro scopre chi è stato ma anche lì chi è ragazzini che chiedevano l'avete denunciato a quanto pare la devozione a questo ambiente a questa religione pare abbia avuto la meglio nel senso che in qualche modo sia stato detto a questo soggetto di redimersi di pentirsi perché aveva fatto una roba orribile ma non ci sia mai stato un intervento diretto per frenare questi atti in uno di questi due casi addirittura il predo a cui venne confessato questo 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 stupro questa violenza minimizzò tal punto da dire che non era possibile che stava esagerando in qualche modo cioè come la solita un po' questione del voler ottenere attenzione in qualche modo quando invece la ragazza che lo stupro l'ha subito davvero da quel momento si è vista la vita rovinata nel senso che si è chiusa in se stessa non ha mai voluto confrontarsi con l'evento la mamma racconta che non è mai più stata la stessa era sempre era sempre stata una ragazza allegra aveva voglia di farsi una famiglia di investire sul suo futuro invece è come se da quel momento in poi fosse rimasta frizzata la sua vita quindi non avesse mai più voluto effettivamente continuare a vivere davvero quell'evento ha creato una frattura talmente tale da non permettergli poi di vivere la sua vita serenamente sta di fatto che questi due episodi sembrano dare molte più informazioni perché si parla dello stesso soggetto denominato tra l'altro in questo ambiente lo zio quindi potete immaginare quale ruolo potessi avere perché uno zio è anche qualcuno di famiglia qualcuno che non ha quello che vuoi bene qualcuno con cui si è imparentato che è notoriamente di zii magari sono quelli che ti chiziano quelli che ti danno attenzioni quelli che ti fanno fare le cose che i genitori non ti vogliono far fare quindi in generale chiamare qualcuno zio è un modo molto intimo di percepire questa persona quindi pensate anche quanto manipolativo potesse essere questo soggetto per ottenere in qualche modo anche il vantaggio di di questa il vantaggio su queste ragazze tra l'altro nel caso specifico di questa mamma che ti ha raccontato parla della figlia che ha subito questo stupro la questione è andata così lui per introdursi in casa di questa ragazza di questa donna e per violentarla ha fatto in modo che la madre non fosse presente in casa quel giorno perché gli aveva trovato un colloquio di lavoro sapendo che aveva bisogno di lavoro quindi si è assicurato che la madre fosse fuori casa è entrato nell'appartamento e la ragazza racconta che era fuori di senno nel senso che la violenza è arrivata in modo dirompente cioè come se non riuscisse minimamente a controllare i propri impulsi quindi parliamo di se volessimo definirlo un vero e proprio predatore che in qualche modo si studia la situazione e poi si lascia completamente totalizzare dall'istinto e dall'aggressività dalla necessità di porre in essere degli atti di violenza quindi anche di un soggetto presumibilmente molto pericoloso tanto che se due ragazze spariscono Chiara viene ritrovata cadavere ma di Cristina dobbiamo immaginare che non ci siano più possibilità di robarle in vita e spuntano negli anni perché questa ragazza che dice della pizzeria di questa aggressione subita nel bagno pensa fosse il 95 ma potrebbe essere stato anche prima quindi voglio dire siamo comunque in quegli anni quindi vuol dire che lui per anni ha continuato in perterito a portare in essere questa attività l'altra siamo comunque negli stessi anni nello stesso ambiente quindi possiamo pacificamente credere che sia tutto frutto di uno stesso soggetto a meno che dobbiamo credere che a Cesena ci fossero stupratori seriali in ogni pizzo quello che fa terrore è il fatto che nonostante sapessero chi fosse nessuno ha veramente mai avuto non voglio dire il coraggio ma forse la possibilità di frenarlo davvero a partire da Don Lino che a quanto pare sapesse chi fosse questo soggetto e quindi non ci si spiega neanche perché a un certo punto ha sentito la necessità di accusare boche c'è da dire che la mamma di Cristina Golinucci è molto legata a questa confessione presunta confessione di boche nel senso che per lei ad oggi fin tanto che non gli danno una verità alternativa cioè fin tanto che non le dicono chi veramente sia stato uccidere la figlia farla sparire in realtà prima di tutto e poi ucciderla lei che è rimasta ancorata a questa a questa testimonianza e voglio dire anche l'unica l'unico elemento veramente ancorante a qualcosa di a un dato reale c'è qualcuno che dice sono stato io ok quindi c'è anche da immaginare che è poi complicato slegarsi dall'idea che qualcuno che dica l'ho fatto io poi non sia veramente stato anche perché a un certo punto c'è anche da chiedersi perché le persone si accoglino roba che non hanno fatto quindi bisogna anche capire bene dietro questa confessione che cosa ci siamo voglio dire basterebbe pensare al caso di erba quindi lo dico sempre a Orindo e Rosa che si sono accollati in una strage che abbastanza pacificamente non hanno minimamente commesso quindi anche lì c'è sempre un motivo perché le persone si autoaccusino di possibili atti lesivi c'è da dire che non ci sono ancora accuse concrete cioè nel senso che ad oggi o almeno non che la mamma di Cristina Coriucci sappia cioè non vi è stato ancora notificato direttamente che c'è un indagato nello specifico questo non vuol dire che non si stiano facendo le indagini cioè sleghiamo il fatto che non si abbiano notizie dal fatto che non si stia indagando anzi e tra l'altro l'indagine passa anche da un altro atto molto molto importante seppur dolorosissimo ovvero la risumazione del cadavere di Chiara Bolognesi perché perché vi ho detto che all'epoca è stato archiviato come suicidio quindi possiamo ben immaginare che un po' per mancanza ripeto delle tecniche un po' per mancanza di piste relative cioè mancanza di idee che potessero legare il caso della Bolognese al caso della Coriucci non si sono portati avanti accertamenti relativi relativi al possibile rilevamento di tracce quindi che cosa si sta facendo ora con 30 anni di retardo sì saranno utili gli accertamenti non lo possiamo sapere ma è sempre bene farli quindi con questi testi perché dopo 30 anni si parla di testi non non immaginatevi un cadavere in stato ottimale anzi si cercherà con questi testi di comprendere se ci sono dei dettagli che possano in qualche modo far luce sull'intera storia tanto che infatti la mamma di Cristina Golinucci dice proprio questo cioè spera che sia chiara a raccontare che cosa è accaduto a Cristina chiaramente raccontare intende ovviamente il suo corpo cioè che possano gli elementi ritrovati su Chiara Bolognesi raccontare che cosa è accaduto a sua figlia c'è anche da dire che la mamma della Golinucci ha provato a un certo punto a spingere la procura a cercare veramente nel Tevere ma questa cosa non è mai avvenuta cioè nessuno effettivamente ha mai dato credito a questa chiamata nonostante avesse predetto il ritrovamento della Bolognesi nel Savio e quindi a quanto pare non avendo mai fatto questo tipo di accertamento se veramente Cristina fosse stata gettata nel Tevere è chiaro che questo vorrebbe dire che noi difficilmente troveremo qualcosa di Cristina perché sono passati 30 anni e voglio dire è al conto improbabile trovare qualcosa di integro diversamente è se effettivamente non è stata gettata nel Tevere quindi è stato un colpo di fortuna quello del chiamante anonimo e invece fosse stata sepolta in altri lidi e quindi possibilmente troveremo dopo 30 anni potremo trovare dei resti nel caso specifico questo ecco se veramente si accertasse che è stata gettata nel Tevere questa parte qui ce la perderemo totalmente quello che possiamo sapere è se attraverso il corpo e i resti di Chiara possiamo in qualche modo capire se c'è stata un'azione lesiva perché le ossa comunque parlano cioè le ossa ci possono raccontare se c'è stato qualche qualche elemento qualche contusione qualche colluttazione che ha provocato fratture o sicuramente no colluttazioni di qualche tipo è chiaro che non parliamo più dei testuti molli cioè dopo 30 anni non esiste più niente quasi più niente di un corpo cioè dei testuti molli quindi non trovi tracce ematiche tracce biologiche trovi tracce relative dettagli relativi a come potrebbe essere morta vi ricordo adesso che siete in quanto pare 24 ci dice ci dice Robertone vi ricordo anzi ve lo ridico perché non c'eravate che dal primo marzo quindi tra un giorno e mezzo due giorni meno un giorno perché è quasi mezzanotte che cosa succede che partono quindi ancora non lo trovate non lo cercate perché non lo trovate ma dal primo marzo ufficialmente troverete il profilo instagram di appista fredda profilo che curerò insieme ai miei colleghi del team di appista fredda professionisti del settore della criminologia stavo dicendo del crimine della criminologia assolutamente al lato buono del crimine associazione che si chiama pista fredda perché ci occupiamo di rileggere i fascicoli di casi o archiviati o irrisolti in generale o scomparse misteriose o morti equivoche sul sito comunque trovate il sito è già attivo da un bel po' si chiama www.pistafredda.it trovate tutte le informazioni solo si solo ho letto pure scritto Roberto trovate tutte le informazioni utili per capire che cosa facciamo in appista fredda ma abbiamo deciso di ampliare un po' la portata proprio per entrare nel mondo dei giovani e quindi è per arrivare a un pubblico maggiore perché chiaramente i possibili i possibili destinatari di questa associazione sono famiglie che in qualche modo vorrebbero avere giustizia vorrebbero capire se c'è modo di avere giustizia per i casi che sono rimasti risolti quindi questa associazione si occupa proprio di dare questo tipo di supporto e inizierà appunto la scalata verso i social quindi verrà aperto un profilo Instagram dove verranno curate tre rubriche una riguarda casi rimasti irrisolti una riguarda le attività professionali che svolgono i professionisti di appista fredda quindi ci saranno un sacco di di post riguardo le attività e poi ce ne sarà una riguardo proprio i professionisti che potete trovare quindi ci sarà il facciore di ognuno di noi ogni settimana per scoprire che cosa facciamo in appista fredda e di cosa ci occupiamo ok quindi dal primo mazzo lo vedete sicuramente sul mio Instagram ma lo spammerò anche su Telegram e Discord il link di questo nuovo profilo ok e penso che proprio su Instagram farò dei contenuti anche nelle storie quindi vi parlerò magari farò qualche reel qualche storia dove vi racconteremo e vi racconterò qualche caso oltre quelli che già abbiamo raccontato ampiamente insieme quindi mi raccomando seguite quando ci sarà seguite la pagina ve lo ripeto ve lo spammerò un po' ovunque perché comunque è una roba di cui sono molto contenta di far parte e perché attivamente io faccio anche questo quindi ad oggi mi sto occupando attivamente di un caso di scomparsa di cui spero di poter parlare presto spero che presto potremo renderlo noto perché è giusto dare voce anche alle vittime e quindi non soltanto al nostro lavoro anzi quasi mai al nostro ma proprio alla voce la voce va data alle vittime perché si cercano e perché si fa tanto per trovarle quindi spero di potervi aggiornare presto su questo su questo caso però in generale seguitemi perché così fate doppio doppio favore a me perché ci metto tanto impegno e in generale all'associazione perché è bene che maggiormente viene spammata maggiormente arriviamo ai possibili destinatari e possiamo aiutare più persone possibili e Grazie a tutti